benvenuti a tutti in questo nuovo video vi mostrerò come cambiare le lampadine della targa in una fiat tipo quattro porte per prima cosa bisogna usare un cacciavite con la punta coperta o una carta di credito che copre la vernice in modo da non grassiare per quel cacciavite andiamo a cercare la molla ecco qua questa è la molla schiacciata la molla per bene uscirà sentito la molla schiacciarla ok una volta schiacciata questa molla che vedete che sulla sinistra in tutte e due perché anche sull'altra sulla sinistra andiamo a girare questa bocchettina qui ok la sfiliamo ok ed ecco qua poi tiriamo via la lampadina e mettiamo quella nuova il gioco è fatto per rimontarla andiamo a infilare bene la lampadina rimettiamo nel buco questa lampadina ok spingiamo e giriamo ecco fatto dopodiché mettiamo questa parte in fondo e schiacciamo mi ha fatto lo scatto ecco fatto bene le nostre lampadine cambiate